4.500 e biglietti ATM staccati in occasione del concerto di Vasco Rossi, un incasso per l'azienda Trasporti di Messina pari quasi a 9.000 euro. 20 bus in avetta messe a disposizione che hanno fatto la spola in continuazione per tutta la giornata dell'8 luglio scorso tra lo ZIR, il centro cittadino e lo stadio San Filippo. Uno sforzo significativo compiuto da un'azienda che fino ad un anno fa non era nelle condizioni di garantire l'ordinario, figuriamoci gli extra in occasione di eventi. Questi numeri positivi dell'ATM, al di là delle polemiche interne che hanno accompagnato l'organizzazione del servizio e la predisposizione dei turni. Sabato si esibirà a giovanotti per l'occasione l'azienda di Via La Farina ci riprova ed in collaborazione con il Comune predisporrà lo stesso servizio con autobus e navetta al costo di 2 euro andate di ritorno dal San Filippo, dove in questo momento si lavora per il montaggio del palco che ospiterà la tappa messinese del tour di Lorenzo Cherubini. Palazzo Zanca adotta intanto una serie di provvedimenti per garantire il regolare svolgimento dell'evento. Per motivi di ordine e sicurezza e da tutela della incolumità pubblica è stato disposto il divieto di vendita di alcolici all'interno dello stadio e in tutti gli esercizi pubblici rigadenti nel raggio di 500 metri dallo stesso impianto sportivo. Inoltre predisposti maggiori controlli per evitare il fenomeno dell'ambulantato che in occasione del concerto di Vasco ha creato qualche problema alla viabilità. Il sindaco Renato Accorinti questa mattina ha pure firmato un provvedimento urgente per contrastare Bagarini.